Taglio del nastro al frizzone per il primo distributore di gas naturale liquefatto in provincia di Lucca. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti tra gli altri il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e Don Americo Marsili. Il GNL è un carburante in fase di espansione in questo periodo. Quello di Porcari è il secondo distributore che viene aperto in Toscana. In Italia adesso ce ne sono 13 ma entro pochi mesi dovrebbero salire a 30. In sostanza il GNL è gas portato allo stato liquido tramite temperature molto basse fino a meno 160 gradi e che viene stoccato in particolari serbatoi criogenici. Con questo trattamento si ottiene un carburante a base di metano a basso impatto ambientale ed adatto anche alle esigenze dei mezzi pesanti. Il sindaco Fornaciari ha accolto con soddisfazione l'apertura della nuova stazione per vari motivi a partire da quello occupazionale. Ora noi tutti sappiamo che questo è un luogo dove lavoreranno delle persone e quindi ci sarà un incremento occupazionale però mi preme molto il fattore ambientale vale a dire la possibilità che qui si riforniscano i mezzi pesanti e noi sappiamo sulla nostra qualità dell'aria quanto impattano negativamente le emissioni del diesel. Ecco c'è una possibilità in più sulla piana di Lucca a Porcari nel cuore del polo industriale del distretto cartario la possibilità di rifornire i mezzi pesanti con un carburante a basso impatto, il metano. I vantaggi in termini ambientali del GNL sono stati sottolineati anche dai responsabili della nuova stazione. L'aspetto ambientale è una cosa rilevante anche perché insomma i mezzi pesanti ad uso oggi sono maggiormente a gasolio e grazie al GNL verranno ridotte drasticamente le emissioni nocive del trasporto su strada.